Ragazzi scusate, ricomponiamoci un attimo, partiamo subito con il portavoce del gruppo di Pier, dov'è? Eccoti. Quindi noi abbiamo avuto l'idea di fare delle storie sul lavoro, ma non il lavoro come cifre, come numeri eccetera, ma storie di persone che lavorano. Quindi accompagnate anche da video che supportino queste storie e naturalmente da un testo, da un articolo. Questo articolo sarà abbastanza lungo, quindi anche l'applicazione per mobile dovrà sopperire a questa caratteristica e quindi sarà una lettura abbastanza lenta. Come finanziamento iniziale si è pensato al crowdfunding, quindi comunque a soldi che vengano dal basso. Si è pensato anche di fare degli abbonamenti ad alcuni articoli, però poi magari all'inizio è difficile che delle persone ti paghino per un prodotto che non conoscono. Una redazione abbiamo pensato che sia abbastanza importante, quindi comunque un lavoro di redazione composto da 4-5 redattori che si ritrovino per parlare di queste cose anche per avere comunque una linea abbastanza solida. Importante nel progetto abbiamo pensato a un programmatore e una figura quindi che curi il progetto del sito per renderlo comunque bello e da vedersi anche per quello che riguarda i video, per il montaggio, ma anche per infografiche. Allora dentro ci troviamo appunto le storie su persone che lavorano, quindi andare magari a trovare queste situazioni che magari non si conoscono molto bene perché è facile parlare di numeri ma le storie singole non si conoscono. Quante volte non ci abbiamo pensato, però essendo 4-5 sarà una cosa abbastanza non sei articoli al giorno, penso, anche perché è un lavoro lungo di fare interviste, eccetera. Quindi diciamo che è un progetto che riguarda storie di nicchia su queste cose. All'interno del gruppo era nato anche un progetto di Unione Europea, quindi di analizzare come ogni Stato, questo è un altro progetto, come ogni Stato affronti il fatto del Parlamento Europeo, quindi come si relaziona ogni Stato, le sue leggi con persone che stiano sul posto e che possano raccontare come questa nazione sia in collegamento con l'Europa perché è facile da qui scrivere articoli su queste cose ma magari una persona che sta sul posto le può descrivere meglio. Penso di sì, se poi il gruppo vuole dire qualcos'altro che magari mi sono scordato. Come spiegavo al gruppo, circa un anno fa, io mi sono occupata per tanti anni di salute, di donna, nei femminili, delle maggiori testate italiane e poi chiaramente, come tanti di noi, c'è il desiderio di creare una testata propria, con dei contenuti propri, molto forti, eccetera. Mi è venuto in mente di fare un giornale online dedicato però a un target ben preciso che secondo me non è abbastanza rappresentato coperto nella carta stampata. Quello che riguarda le donne over 50 in cui si trattano temi principalmente di salute, di benessere. La difficoltà però è stata immediata perché è un giornale online, per essere interessante, ci vuole molto lavoro dentro e va aggiornato quasi tutti i giorni con articoli freschi, eccetera. Nel frattempo devi anche lavorare e la difficoltà è quella di non guadagnarci nulla. Ci sono altre colleghe che hanno già tentato meglio di me questa strada e purtroppo tutte quante mi hanno detto guarda non ci si guadagna proprio nulla, non riusciamo ad avere un banner pubblicitario anche se abbiamo tantissimi contatti, fino a 800.000 contatti. Però le aziende farmaceutiche o altre aziende non ci prendono neanche in considerazione. Quindi questi sono veramente i punti deboli. Perché nella mia idea c'era anche ovviamente di fare un bel sito con tanti video, con tante interviste per essere più leggero e poco scritto. Cioè meno scritto. Sto parlando della salute praticamente. La parte editoriale ovviamente grande parte sulla salute poi però anche gli interessi delle donne perché la donna ovviamente over 50 è una donna ancora molto giovane che ha anche una buona capacità economica fortunatamente e in più è curiosa e secondo me è una fascia di età in cui vedo perché ci sono le mie amiche di questa età si viaggia tanto, si va alle mostre, quindi ci sono anche contenuti culturali e niente di bellezza anche. Quindi insomma si spazia nella vita di una donna, si parte dalla salute principalmente però poi ci si occupa di benessere, insomma cultura, tutto quello che può migliorare la vita di una donna. solo che ripeto quando arrivi a chiedere soldi in giro per avere dei banner non si fa molta fatica ma io penso che poi alla fine solo i grandi siti tipo quello del Corriere, quello di Repubblica riescono ovviamente che hanno una struttura meravigliosa ad attirare la pubblicità. ma per il resto non lo so come possiamo fare, sono qui per questo. Forse nella parte dopo dovremo inventarci nuovi modelli per rendere possibile, per capire che stare dentro alla logica del banner, del CDF, tutte le metri che abbiamo detto, in tutto lo facciamo, in tacco le parole su questo delitto è quello che alla fine fa fallire questi progetti che magari sono anche molto interessanti però crollano perché anche noi dobbiamo lavorare per mangiare, per vivere quindi io devo scrivere degli articoli dove mi pagano e si fa fatica a trovare anche il tempo di portare avanti ovvio, gratuitamente insomma queste cose. Va bene. Allora, salve a tutti intanto. Allora, il nostro progetto è un progetto fortemente geolocalizzato con contributi di, come si può dire, microcronaca. Questo non vuole dire un'ansa, cioè una cosa che esiste già. Perché? Perché ovviamente nei piccoli quartieri delle varie città l'ansa non arriva. Quindi sarebbe la possibilità di dare agli utenti una piattaforma per scrivere la cronaca dai piccoli borghi, dai piccoli quartieri. Cosa succede? La domanda è, ma se questo succede inevitabilmente la qualità viene meno perché tutti possono contribuire liberamente e non c'è un controllo. Ma noi abbiamo pensato ad un format stabilito, ovvero non c'è una narrazione libera, ma abbiamo dei campi ben precisi da compilare. Pensiamo quasi ad esempio a un social, dove, come, cosa, e quindi una cosa già meno narrativa, che possa permettere a tutti di poter raccontare notizie dal territorio. Su questo, oltre alla piattaforma di utenti liberi che scrivono, ci sarebbe anche una redazione che nota le notizie più importanti, le verifica in base ai vari criteri e può scrivere e sa stessa degli approfondimenti oppure può chiedere a queste persone di fare degli approfondimenti e controllarli. Quindi sarebbe una piattaforma doppia. Qui c'è la redazione, ma c'è tantissimo software. Cioè, da quel che vedo, come dire, è un progetto che ha una grande attenzione alla parte di sviluppo e sta lì il cuore, no? Sembrerebbe di sì. Abbiamo cercato di poter unire contributi liberi da parte di tutta la rete e anche qualità, cercando di unire le due cose. Cioè, al Festival del Giornalismo troviamo più lavoro per i programmatori, mi sembra di poter dire. No, no, ma allora non volevo dire, aspetta, non volevo dire so. Ma io non so un contrario, eh, non è che, cioè, annotavo. Bene, vado allora. Bene, grazie, grazie davvero, buon lavoro. Grazie. Noi, siccome eravamo indecisi fino alla fine, io ho creato una deroga per tutti perché serviva a noi per avere due portavoce invece di uno solo. Scusate. Siamo incassati a Tetris. Allora, salve a tutti, sono Marco e mi hanno dato questo compito indegno di rappresentare il mio barra nostro progetto. e, praticamente, il progetto è un progetto culturale che si sviluppa in una nicchia, praticamente, è un blog barra sito che parla di pittura, scultura e fotografia. ed è, praticamente, un progetto che viene fuori da un'esperienza mia personale. Io faccio il commercialista, non c'entro nulla col mondo del giornalismo, però sono sposato con una giornalista e, ahimè, a una serie di amici giornalisti. Grazie, grazie. Da qui ho seguito un corso di giornalismo di una persona che è qui presente, quindi questa ragazza bionda è la favotrice di tutto ciò, e, innamorato del giornalismo, comunque, a parte di scherzi e occupandomi, anche, nella vita di cultura... Raccontaci il progetto, scusa, non te la prendo. Sono arrivato, appunto, a creare questo progetto. Niente, il progetto, sostanzialmente, è questo. È un giornale online che si va a inserire in una nicchia, appunto, che è quella culturale, ma di pittura, scultura e fotografia. Perché mi sono reso conto, facendo delle indagini di mercato molto superficiali, che molti giornali parlano di cultura, ma non entrano, poi, fortemente in questi settori. E quindi sto cercando di creare, appunto, questo progetto, incuneandomi, appunto, in queste tre branchie fondamentali. Prevede, appunto, una redazione che lavora, sostanzialmente, in qualsiasi... Non abbiamo bisogno di una redazione proprio fissa, ma si lavora, sostanzialmente, direttamente sul posto, andando a vedere una mostra, piuttosto che un evento, un vernissage, o qualcosa di questo tipo. E niente, si buttano contenuti su questo sito. E stiamo cercando, come abbiamo detto prima, di sviluppare un modello di business. Perché comunque poi il problema fondamentale è che chi scrive c'è, chi cura poi la parte software c'è, ma il problema grosso, fondamentale, da diversi anni a questa parte, appunto, è come sostenere questi progetti. Quindi il problema grosso sta sempre lì. Io ho tentato di, come spiegavo prima, di creare un modello di business che ho chiamato Misto, sinceramente. Dove c'è all'inizio una ricerca di sponsor grossi che sono potenzionati su un asset alto, che funzionano un po' da mecenati. Cioè, coloro che si innamorano del progetto, che adesso ho raccontato così, non ha senso comunque, che si innamorano del progetto e che sovvenzionino questo tipo di prodotto. Dopodiché il passaggio successivo è invece proporre agli investitori reali, quindi chi vuole investire su questo sito, realmente con la propria immagine, di proporre appunto un investimento anche per loro, reale e fattivo, dicendo, signori, questo è il nostro modello. Sponsori importanti hanno subvenzionato e credono in questo prodotto. Noi vi diamo, non la garanzia, ma una futuribilità di esposizione nei confronti della massa e poi c'è la vendita di una serie di prodotti di investimento. Relativi all'altro. Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Diletta. Devo dire la verità, questo non è un mio progetto, è venuto fuori come sintesi di quello che era uscito fuori dal nostro gruppo, che sono venute fuori molte idee, quindi ho provato a cogliere elementi da alcune per sintetizzarli. Quello che era venuto fuori era una necessità di semplificazione del linguaggio burocratico. Sì, stringo. Ok. Allora, è una testata online che racconta in maniera accessibile e il più possibile anche magari divertente il mondo dell'agricoltura biologica e pratiche di coltivazione o di cibo sostenibili. Allora, cosa succede? Semplifica quello che è il linguaggio burocratico delle normative sul biologico, perché l'osservazione da cui nasce l'idea è il fatto che, sì, il mercato del biologico è in crescita, però ci sono molte resistenze dovute a diffidenza verso il marchio del biologico, il fatto che si compre gli scandali, eccetera. Bene, quindi ha un pubblico di potenziale, di persone che mangiano, quindi direi molto esteso, e un pubblico, diciamo, più attuale di persone sensibilizzate al biologico, alla sostenibilità o in via di sensibilizzazione, puntando a quel pubblico lì, provare a intercettare aziende che fanno il biologico o decidono di investire in una riqualificazione sostenibile delle loro aziende e usare loro come fonte di finanziamento per parlare di un tema e quindi creare consapevolezza sulle persone, quindi raccontando il cibo, l'alimentazione, l'agricoltura sostenibile, quindi creare anche un valore sociale, far capire quali sono i benefici di questo tipo di pratiche. D'altra parte, far tornare indietro alle aziende, al di là di una maggiore consapevolezza delle persone, anche un canale di ascolto, cioè perché se le persone sotto agli articoli che ti parlano di pane possono commentare, alle aziende torna indietro anche non solo delle metriche, ma anche dei contenuti di ricerca, quindi una sorta di consulenza che gli torna indietro. Perfetto, grazie Diletta, grazie a tutti. Adesso, visto che il tempo è poco, ma il core inizia adesso, ricominciamo a parlare divisi per gruppi dei vostri progetti, cercando di modellare davvero una bozza di business plan, che altro non è che un piccolo foglio mentale o pratico in cui scriviamo, capiamo, calcoliamo, quanti soldi servono per partire, quanti soldi servono per quindi pagare la struttura informatica, la progettazione, la realizzazione, il lavoro, il lavoro di chi ci lavora dopo, e quanti soldi e come è possibile raccogliere dal punto di vista dei ricavi. Questa ovviamente è la parte più difficile e più importante, perché mentre a calcolare i costi più o meno possiamo sbagliare, ma più o meno li vediamo, come fare a fare ricavi è sempre più complicato. Visti i progetti che voi proponete, suggerisco a tutti di essere molto creativi e di liberarsi della parola banner, che è tornata tante volte, perché giustamente tutti noi da fruitori dell'informazione o da operatori dell'informazione siamo abituati a immaginare un giornale digitale che si sostiene attraverso i banner. Ecco, attraverso i banner non si sostiene sostanzialmente nessun giornale, perché il valore unitario di quella cosa, di quella forma di advertising è sempre più basso e sempre di più lo sarà. Sempre di più lo sarà. Quindi, proprio perché state costruendo tutti, avete immaginato e avete presentato progetti che comunque hanno una loro verticalità, una loro capacità di colpire delle nicchie, delle tendenze, dell'elite, cercate di essere creativi nell'immaginare forme di ricavo che stanno fuori da quelle che abbiamo ereditato fino adesso e che si muovono nell'ambito del native advertising, dei servizi, dei servizi di consulenza, del rapporto diretto con gruppi di lettori o di interessi. Naturalmente, tenete conto, visto che siamo per lo più una platea di giornalisti, di ogni necessario bilanciamento deontologico, doveroso bilanciamento deontologico, questo mi sembra ovvio. Però ecco, cercate di sforzarvi anche in modo creativo senza aver paura di gettarla troppo in là la palla, di essere troppo visionari, perché in questa fase o lo siamo tutti tanto o non iniziamo neanche, non partiamo neanche e alla fine ci troviamo poi a sbattere contro una realtà che è quella che ereditiamo dal mercato di internet e dell'informazione digitale degli anni passati che di fatto non crea valore e lavoro quasi per nessuno. grazie.